Buongiorno a tutti. Come ormai sapete la conferenza stampa si svolge senza la presenza in sala dei giornalisti. Nel rispetto delle normative conseguenti dell'epidemia sul covid-19, l'ufficio stampa ha raccolto le domande e i due colleghi di Roma TV e Roma Radio ci aiuteranno a porgerle all'allenatore. È presente invece in sala Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Roma-Juventus è la partita che Dzeko poteva giocare con la maglia della Juventus. Una cessione sfumata in extremis, aveva raggiunto l'accordo con la Juventus, Milic aveva già fatto le viste mediche per la Roma e poi c'è stata l'imprevedibilità del mercato. Allora le chiedo se in questi giorni ha parlato con Edin Dzeko, se lo vede comunque motivato al 100% a iniziare questa nuova stagione da capitano della Roma. Sì, ho parlato con Dzeko diverse volte e sta molto motivato. Ha allenato molto bene questi giorni e giocherà domani. Rimanendo sulla partita e sui nuovi acquisti, Kumbulla era rimasto in panchina contro il Verona. Ha qualche giorno in più d'allenamento con i compagni? Quindi se è pronto anche lui a giocare dall'inizio e se sarà sempre difesa a tre contro la Juventus? Io so che ho molte domande su quello che saranno i giocatori che giocheranno domani. Se non succede niente fino all'ora della partita la squadra che giocherà sarà Antonio, Santon, Mancini, Ibagnes, Kumbulla, Spinazzola, Veretù, Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko. Salve mister, domanda della Gazzetta dello Sport a Verona durante i 90 minuti. Lei ha chiesto a Dzeko di entrare e lui si è rifiutato? Non è vero. Non è vero. Salve mister, Lancia vi chiede come valuta fino a questo momento l'utilizzo di Mkhitaryan da falso 9 e se è da considerarsi una scelta legata soltanto all'emergenza o se può rappresentare in futuro un'opzione per il ruolo di vice Dzeko evitando di intervenire sul mercato per acquistare un altro centravanti? Devo dire che mi è piaciuto Mkhitaryan come 9 ma quando abbiamo un attaccante come Dzeko non fa senso pensare a usare Mkhitaryan come 9. Può succedere se abbiamo bisogno ma il nostro attaccante è Dzeko. Domanda del Corriere della Sera. Lei ha più volte parlato nella stagione scorsa di Anno Zero da cui far partire un progetto. Oggi che è iniziato il secondo anno, a che punto siamo? Siamo meglio. Penso che se possiamo fare un paragone. Quello che è stata la prima partita quando io sono arrivato qui e la partita in cui abbiamo iniziato questa stagione penso che è chiaro che la squadra sta meglio. Penso che per me questo è quello che è importante vedere. Domanda del Corriere dello Sport. A pochi giorni dalla fine del mercato quanti giocatori mancano alla Roma? Io sono totalmente focalizzato nella partita di domani e non voglio parlare del mercato. Stesso tema anche la domanda del tempo ma andiamo avanti. Possiamo proseguire. Domanda del Romanista. Che cosa è cambiato sulla questione Smalling rispetto all'ultima conferenza? Lei era molto ottimista, poi sono arrivate notizie decisamente diverse. E poi domanda simile anche di Rete Sport. Prima della gara di Verona lei aveva detto che si aspettava l'arrivo di Smalling in tempi brevi. A che punto è la trattativa? A 24 ore di fare una partita importante sono solo focalizzato nella partita. È una partita difficile ma è una partita importante. Abbiamo lavorato molto su questa partita. Io ho fiducia ai giocatori che giocheranno domani e dobbiamo solo adesso pensare alla partita con Giove. La Repubblica le chiede se ha parlato con il Presidente Fritkin e qual è il vostro obiettivo per questa stagione e se la squadra è attrezzata per raggiungerlo. Scusa? Se ha parlato con il Presidente Fritkin qual è il vostro obiettivo per questa stagione e se la squadra è attrezzata per raggiungere questo obiettivo. Da primo giorno che loro hanno arrivato qui io parlo tutti i giorni con loro. Siamo tutti insieme a lavorare per fare una squadra più forte e penso che l'obiettivo è chiaro che fare meglio quello che abbiamo fatto la nostra stagione. Teleradio Stereo le chiede. Bruno Perez si è allenato in gruppo dopo la positività. In che condizioni fisiche sono lui e Karsdorp? Bruno Perez solo ha iniziato a lavorare con noi questa settimana. Non è pronto per giocare da inizio questa partita. Karsdorp ha fatto un lavoro individuale ieri ma non è pronto. Domanda di Centrosuono Sport. Nei primi minuti di Juventus Sampdoria abbiamo visto la squadra di Ranieri molto aggressiva. Andare alta a mettere pressione alla Juventus per costringerla a buttare palla lunga in costruzione. Può essere questa una chiave per mettere in difficoltà la squadra di Pirlo quella di andare a prenderli alti con aggressività per costringerli a buttare palla lunga ed uscire forti sulle seconde palle? Noi non vogliamo modificare la nostra identità perché giochiamo con Juve. Vogliamo essere una squadra che presta molto, che presta alto ma dobbiamo essere una squadra equilibrata. Juve è una squadra molto forte e penso che dobbiamo essere equilibrata. Quando abbiamo la possibilità di pressare più alto la squadra lo farà. Se non, se loro escono dalla pressione dobbiamo essere una squadra compatta. Domanda di Roma Radio. Che cosa cambia a centrocampo con Pellegrini al fianco di Veretout? Con Pellegrini possiamo uscire più veloci per attacchi e possiamo avere più un uomo vicino alle altre tre in attacchi. Domanda di Roma TV. Che Juventus si aspetta domani e se ha visto già qualche differenza nella nuova Juventus di Pirlo rispetto all'anno scorso? Sì, il Juventus è un allenatore nuovo, un allenatore giovane, un allenatore che ha un grande futuro sicuro. In questo momento ho visto la partita, sono una squadra più dinamica, con movimenti diversi. Mi è piaciuta molto la dinamica di Juventus. Sono una squadra che pressa forte, principalmente nel corridoio laterale, ma ho visto una squadra molto dinamica. Grazie. Grazie. Ciao, buongiorno. Grazie. Ciao, buongiorno. Grazie.